buongiorno belle bimbe nuovo video nuovo video creazioni sarà il video creazioni di maggio ho creato un pochino meno rispetto agli scorsi mesi perché sono stata molto impegnata con delle visite mediche aspetta Diego e poi nel fare degli schemi perché appunto molte delle creazioni che vi farò vedere hanno il loro schema in vendita su Etsy allora partirei subito con questi che sono gli orecchini chiara di questi appunto c'è lo schema su Etsy e sono realizzati con un cabochon ovale 18x13 mm e il mio intento era quello di riuscire a trovare un modo per usare le lecilli preziosa perché sono delle perline secondo me abbastanza difficili ecco forse è carino pure il retro fare un orecchino semplice così poi ho usato dei cipollotti e dicevo ho usato dei cipollotti 8 no Diego fermo per favore Diego fermo per favore dicevo Diego che si arrampica sul tavolo per prendere gli orecchini ma vabbè ha usato anche dei cipollotti 8x6 mm e 6x4 mm e questo vabbè è il primo dopodiché allora cosa c'è piano fai pianissimo allora gli orecchini camilla di questi invece c'è il tutorial qua nel canale poi comunque ve lo linko sotto con un rivoli da 16 mi pare si incastonato appunto con perle da 8 mm e questa decorazione netted con rocaille vedete il rivoli è incastrato all'interno c'è anche una seconda versione che è quello eccola qua forse questa era la prima versione quella di prima e quella proprio del tutorial questa era la mia prima versione ok e niente sempre con rivoli da 16 mm uso sempre quelli di tinting questo è quello viola e perle da 8 mm poi abbiamo vabbè Diego intanto mi piacciono tutti gli orecchini si fai pianissimo però eh abbiamo gli orecchini Cecilia di cui sono molto molto fiera mi piacciono veramente tanto e anche di questo c'è lo schema suezzi è un rivoli da 14 mm incastonato con perle da 8 mm crescent perline crescent e rocaille e super duo piano non devi tirare ok anche di questo c'è lo schema appunto e questi veramente mi piacciono tantissimo sono molto fiera della decorazione mi piace la decorazione l'effetto che da qua davanti l'incassonatura si Diego stai calmo scusate eh oggi è preso poi questi sono gli orecchini Milena sempre un mio schema suezzi in realtà lo schema comprende il modulo sotto con una goccia e io ho spudoratamente copiato il montaggio e il modulino sopra non li far cadere da Sabrina Legnani le gioie di Kiki che appunto dalla sua versione dello schema e mi piacciono tanto questi colori molto estivi aspetta è molto estivi e è una valida alternativa per non mettere la solita goccia che magari appesantisce l'orecchino poi abbiamo gli orecchini Lena anche di questi vado molto molto fiera si aspetta vado molto molto fiera perché sono riuscita ad incassonare un rivoli sempre da 14 mm con le perline lentil e anche di questo c'è lo schema suezzi vedete e poi io ho fatto una decorazione abbastanza semplice con cipollotti 6x4 e 4x3 e la goccia di Cadoro che amo e davvero mi piace moltissimo ho già visto delle versioni dello schema e davvero mi piacciono davvero tanto poi invece ultimi che sono anche proprio gli ultimi che ho creato gli orecchini Serena con sempre un rivoli no con un rivoli da 12 mm incastonato con le pince vedete che negli ultimi modelli sto cercando appunto di variare utilizzare perline diciamo diverse dal solito non sono tutte le ultime uscite ovviamente ma per me sono comunque nuove non le avevo mai lavorate quindi ho incastonato appunto rivoli da 12 mm con le lentil e ho fatto questa decorazione intorno sempre con delle lentil e rocaille 11-15 mm sono abbastanza piccoli e portabili mi sanno da tutti i giorni anche di questi veramente sono molto orgogliosa e c'è la seconda versione che è quella dello schema che è questa in questi colori un po' più classici si è attorcigliato tutto e cade e vabbè Diego ride va bene stavo dicendo eccola qua la seconda versione Diego ragazzi ragazzi vabbè ma che video passiccioni fermo ce la facciamo? cioè sono gli ultimi va bene questa versione appunto con colori più classici adesso te li do stai seduto è un rivoli sempre da 12 un rosa pallido e questa colorazione sul loro matt beggiolino appunto niente e mi piacciono mi piacciono molto anche questi va bene con ciò vi saluto ragazzi un video particolarmente veloce perché sta combinando di tutto Diego e ciao ci vediamo alla prossima un bacio